Buongiorno ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati. Allora oggi un brevissimo video, una comunicazione per tutti gli amici campani. Io mercoledì 22 starò tutto il giorno in Campania, quindi vicino Napoli, a due passi da Napoli. Porterò delle coppie ad un nuovo nostro amico, c'è un amico che ringrazio. Ciao Gennaro, grazie mille, buona domenica, ci vediamo il 22. Che ha sempre allevato, ha portato avanti dei canarini così diciamo per passione e ha deciso finalmente di cominciare a fare sul serio, quindi porterò un po' di coppie da lui e starò un po' con lui. Naturalmente invito tutti gli amici campani che dovessero avere necessità o anche semplicemente di salutarci, di prendere appuntamento, quindi contattatemi, mandatemi un messaggio, il mio numero lo sapete, ve lo ricordo, 340-30-39-199. E voglio anche ricordare agli amici del Nord che scenderanno per vacanza qui in Puglia, la nostra bella mia, bella Puglia. Non esitate nel risalire a passare a trovarmi, anche semplicemente per prendere un caffè assieme o semplicemente per vedere il mio allevamento e per vedere come vanno le cose. Quindi vi aspetto, ringrazio naturalmente tutti coloro che lo hanno già fatto e lo stanno facendo e hanno già preso degli appuntamenti. Quindi un abbraccio a tutti e buona domenica a tutti. Ciao! Ciao!